Due colpi all'addome ed uno alla testa. E' morto così Italo Delisa, il 22enne operaio della Dens, ucciso da Fabio Di Lello, 35 anni, panificatore ed ex calciatore dilettante, attualmente in stato di fermo nel carcere di Torresinello a Vasto. Il risponso sulla morte di Delisa è arrivato al termine dell'autopsia disposta dal PM della procura di Vasto, Gabriella De Lucia, e condotta all'interno dell'ospedale di Chieti dall'anatomo patologo Pietro Falco. Il medico legale al termine dell'esame ha escluso che i colpi siano stati sparati da distanza ravvicinata. Comunque il risultato dell'autopsia sarà confrontato con le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Via Pert nei pressi della circonvallazione istoniense che, mercoledì pomeriggio, hanno ripreso tutta la scena davanti al bar Drinkwater. Prima avrò modo di vedere anche il video e quindi di fare questa comparazione con i tramiti intrecorporei che abbiamo rilevato in sede di esame interno. Certamente potremo concludere con la compatibilità. Un gravissimo trauma cranioencefalico, oltre che addominale. Diciamo quindi una morte rapidissima. Non ci sono i segni del colpo a bruciapelo e neanche il segno della canna sulla cute. Quindi si può escludere una distanza ravvicinata nel senso che ho appena detto. Non è stata appoggiata la canna sulla cute e neanche un colpo a bruciapelo perché non ci sono questi segni della bruciatura. Nel frattempo emergono nuovi dettagli dall'inchiesta. La pistola calibro 9 con la quale Di Lello ha deciso di farsi giustizia da solo, vendicando la morte della moglie avvenuta il primo di luglio in un incidente stradale provocato dalla vettura di Italo Delisa, era detenuta legalmente con regolare porto d'armi. Non un particolare secondario, anche perché, come ha dichiarato l'avvocato Cerella, legale di Di Lello, il ragazzo era molto turbato. Si recava spesso nello studio legale per avere notizie dell'inchiesta a carico di Delisa per omicidio stradale colposo e passava intere giornate davanti alla tomba della moglie, la stessa su cui è andato a deporre la pistola subito dopo l'omicidio prima di costituirsi. Sempre l'avvocato Cerella però ha dichiarato che Delisa avrebbe provocato più volte Fabio Di Lello con atteggiamenti di sfida, anche se questa circostanza è stata smentita dall'avvocato del re, legale del ragazzo, che invece ha parlato di un clima di odio in città, che ha costretto il 22enne a nascondersi facendogli desiderare di marcire in carcere. A Vasto, alcune settimane dopo la morte di Roberta Smargiassi, in una fiaccolata si era chiesta giustizia reiterata anche sui social network, un clima che secondo alcuni avrebbe favorito il gesto di Di Lello. Sullo sfondo comunque ci sarebbe una vera e propria guerra tra famiglie, che sia il papà di Roberta Smargiassi che quello di Italo Delisa provano a stemperare con queste parole. La città ha un solo messaggio, che chiedo perdono a nome di Roberta, perché Roberta questo non lo voleva. Fabio è un bravissimo ragazzo, non so che gli è preso, ma è un bravissimo ragazzo, ma lo sarà sempre. Questa storia deve finire, basta quest'astio che c'è, che non è da parte vostra. Da parte nostra non c'è stato astio, ma neanche da parte sua non lo so che gli è preso ieri, non lo so come è successo. No, non ho parole, sono mortificato anche per la persona che ha fatto quest'atto, mi dispiace, non lo doveva fare e non ci sono parole.